Anche l'esercito scende in campo contro il coronavirus in Italia. Si approntano sedi come un vecchio ospedale militare che a Milano servirà per decongestionare i reparti dei convalescenti negli ospedali cittadini. C'è stato il richiamo dei medici riservisti per affrontare le emergenze in Alt'Italia. Mentre aumenta il numero dei contagiati si pensa a un'altra zona rossa di quarantena nella città di Bergamo, 50 km a nord-est di Milano. Le scuole nel milanese restano chiuse, ma sono chiuse anche 120 scuole in Francia, prevalentemente nell'Oase, dove è arrivato il coronavirus. Il presidente Macron ha fatto requisire tutte le mascherine disponibili nel paese per rifornire chi sta affrontando l'epidemia. Dal centro di crisi del Ministero della Salute francese a Parigi, il presidente è stato chiaro. Dobbiamo essere tutti consapevoli che siamo e saremo mobilitati a lungo termine, ma siamo pronti e so che avremo la forza di affrontare la sfida. Al vertice dell'Organizzazione Mondiale della Sanità si sottolinea che il virus non è come l'influenza. Mentre molte persone in tutto il mondo hanno sviluppato l'immunità contro i ceppi di influenza stagionali, contro il Covid-19, che è un nuovo virus, nessuno ha sviluppato l'immunità. Ciò significa che molte persone sono suscettibili di infezione. Mentre una parte dei dirigenti politici dell'Iran sono già affetti da coronavirus, le autorità iraniane hanno deciso il trasferimento di 54.000 detenuti agli arresti domiciliari, per evitare i rischi di diffusione del contagio da coronavirus nelle carceri. Nel frattempo il Presidente Trump negli Stati Uniti ha visitato un laboratorio dove si opera per individuare nuove terapie. Nonostante le sue rassicurazioni, negli Stati Uniti c'è stato un nuovo decesso per il virus. Le tensioni stanno aumentando al Congresso in relazione all'effettiva capacità del governo di procedere con i test fra la popolazione.